benvenuti a questo webinar dedicato all'health care cioè a tutte quelle installazioni che sono state fatte nell'ambito ospedaliero e praticamente andremo a vedere sostanzialmente alcune case history che sono state realizzate in quest'ambito e poi come di consueto per questo tipo di presentazione che viene fatta in questo tipo in questo periodo cioè che sono dedicati a case history e non tanto alle soluzioni comunque alla fine di questa seconda parte andremo a vedere appunto alcune di queste soluzioni che sono state installate nell'ambito appunto dell'health care per cui di fatto cosa vedremo a livello di agenda vedremo le case history e poi successivamente infine velocemente e rapidamente perciò non sarà un webinar di durata lunghissima comunque penso comunque interessante per voi e vedremo appunto le soluzioni di riferimento di switch di wireless per cui partiamo di fatto con la prima parte andando a vedere i case history e andiamo a vedere un po' che cosa è stato fatto alcuni case history che sono stati fatti appunto in questo ambito partiamo dal primo case history allora il primo case history è un ospedale che è stato realizzato nel nord italia e qui l'installazione è abbastanza semplice tutto sommato perché cosa vediamo vediamo che intanto ci sono due ambiti tecnologici di installazione cioè quello relativo alla parte switch e quello relativo alla parte wireless partendo dalla parte wireless vediamo più semplicemente gli access point della serie DAP 2660 che sono access point appunto certificati elettromedicali che sono stati appunto installati verso delle switch POE della serie DGS 1510 poi questi switch diciamo POE sono stati collegati a uno stack di switch DGS 3630 che sono dei layer 3 non sono anche 1510 ma diciamo dei layer 3 più performanti rispetto alla serie 1510 tramite un LCP e quello che si può notare qua è il cosiddetto cross stacking cioè sostanzialmente si vede come un link dell'LCP collassa sia su una macchina di un tipo che dell'altro sempre a livello del core ricordandoci che i 3630 a livello di stacking sono come un'unica macchina logica per cui di fatto ciò è possibile il fatto che lo stacking li considerano un'unica macchina logica perché con un LCP non si può partire se non partire da diciamo da un unico switch e arrivare su due switch diversi a meno che questi switch non appunto non siano stack. Questo è stato fatto appunto per una questione di ridondanza perché nel caso accada uno switch l'altro continua a comunicare col nostro switch di periferia perciò a livello di ridondanza del centro stella e di conseguenza appunto è stato realizzato questo tipo di struttura. Alla fine poi di questo lavoro si trova anche il DNH100 che è il nostro controller che si occupa appunto di andare a gestire centralmente gli access point della serie DAP2660. Per cui di fatto il DNH100 che è un controller che gestisce fino a 106 point va a monitorare questi multipli DAP2660 appunto che si trovano collegati tra di loro. Le macchine DGS3630 ripeto sono i stack tra di loro e lo stack può venire appunto in questo caso avvenuto con dei cavi DEM CB100S cioè dei cavi di stack che non necessitano appunto dell'utilizzo della fibra ottica. Andiamo a vedere adesso un altro ospedale del nord Italia e qui sostanzialmente sono stati installati dei DWL6620 APS. Non vi è una rete di link cioè sostanzialmente di fatto la rete non è di link è una rete di un altro vendor. Quello che noi a cui ci siamo solo occupati è quello di installare la rete Wi-Fi per cui la rete Wi-Fi è messa con dei DWL6620 su cinque piani con dei multipli per cui anche qua dei multipli e molto semplicemente alla fine poi un DVC2000 che ha un controller praticamente che gestisce questi access point va a far la gestione centralizzata. Perché anche qua i DWL6620 APS perché sostanzialmente sono anche questi ad access point certificati per l'uso elettromedicale. Per cui un po' quello che si vede un po' in questa presentazione è un po' l'utilizzo di access point appunto che siano appunto certificati per questo tipo di ambiente. Non è detto che poi questa cosa venga sempre chiesta però sostanzialmente un po' questo trend union di quello che sta avvenendo qua. Il 6620 APS poi sono delle access point interessanti anche perché come vedremo poi nelle slide successive sono anche access point che hanno delle antenne smart beam, smart antenna, cioè sostanzialmente delle antenne di tipo smart che sono in grado di funzionare in una prima fase in un'omine direzionale e poi successivamente diventare come delle antenne direttive. Cioè perciò di focalizzare l'energia solo esclusivamente dove serve. Per cui di fatto creando minore interferenza. Perciò questo tipo di sistema è stato scelto appunto dall'ospedale per diverse ragioni tra quelle che ho appena esposto. Vediamo adesso un altro ospedale, questo invece ci troviamo nel centro Italia e qui vediamo sempre l'utilizzo del 6620 APS cioè diciamo che siamo anche un po' vincolati dal punto di vista poi anche nostro perché di fatto nel momento che vengono scelte alcune determinate specifiche, ben precise, siamo costretti un po' a andare su alcune determinate unità. Quello che si nota qua è un po' un ibrido tra quello che la prima slide abbiamo visto e la seconda perché vediamo l'utilizzo del 6620, là era l'utilizzo del DAP 2660, l'utilizzo di due controller e poi delle unità in stacking. Qui la scelta del doppio controller è stata proprio una specifica dell'ospedale, cioè scritta proprio in ambito di capitolato proprio perché era stato chiesto proprio un sistema che permette ai testi di avere un controller indondato. Il DVC2000 permette ciò perché i due controller si possono mettere appunto in ridondanza tra di loro e di conseguenza vanno a gestire praticamente gli access point. In questo caso gli access point erano suddivisi tra un controller e l'altro ma in caso di caduta di un controller l'altro ha la possibilità di prendere appunto di gestione tutti gli access point che aveva l'altro controller, aveva quello che è caduto. Quello che si nota qua partendo dagli access point è che qua andiamo appunto su, gli access point sono multiple, andiamo a finire su uno switch POE, questo switch POE della serie DGS1250 parte in LCP, anche qua fa il cosiddetto cross stacking, quella cosa che abbiamo visto prima, ed XS3004 sono delle switch 10 gigabit, per cui di fatto il collegamento avviene a 10 gigabit, grazie al fatto appunto che i DGS1250 hanno delle porte fibra a 10 gigabit, con un collegamento in fibra, e sostanzialmente come vedete vanno a finire da una parte sopra e da una parte sotto degli altri due switch, per cui una cosa anche abbastanza semplice e intuitiva da capire, e poi vediamo come ci sono dei collegamenti a rame invece che servono per i due apparati rinondati. Diciamo che poi addirittura si sarebbe potuto fare anche un lavoro di questo genere, cioè si poteva prendere il DVC2000 e mandare più link, perché comunque il DVC2000 ha effettivamente la possibilità di fare anche l'LLCP, ma la scelta di avere due controller ha un po' chiuso la questione, nel senso che comunque l'ospedale ha detto va bene anche un link solo, perché tanto se il link si perde oppure il DVC2000 cade, io ho comunque l'altro DVC2000 in grado di gestire le access point. Però a nord del vero si sarebbe potuto anche qua fare un collegamento in LCP tra il DVC2000 e l'apparato di staking, cioè andando anche qua a rinondare la questione delle porte. Per cui di fatto, come ho detto, una rete strutturata in modo di avere un'alta affidabilità lato core e lato periferia, ovviamente con il doppio controller appunto per questo tipo di lavoro. Poi vediamo l'ospedale invece gestito in Africa, gestito dall'Italia. Qua è una richiesta particolare perché un cliente ci ha chiesto di installare degli access point sostanzialmente in un ospedale in Africa, però questi access point dovevano essere visti sostanzialmente dall'Italia, cioè lui sostanzialmente dall'Italia voleva vedere questa rete un po' perché questo ospedale non è presidiato se non da personale comunque di poca conoscenza, cioè di poca conoscenza appunto di networking, per cui lui ha scelto di acquistare questi tipi di apparati, di installarli localmente e poi tornando in Italia di poter comunque monitorare questa rete. Allora qua siamo a livello di una richiesta ovviamente molto particolare perché ci vuole qualcosa che sostanzialmente possa essere visto da remoto senza problemi. Alla fine l'utente ha scelto di utilizzare Nucleus Cloud, cioè di utilizzare perciò gli switch Nucleus Cloud della serie di 2000 e il DBA 2620P che è un apparato comunque anche esso certificato elettromedicale, sostanzialmente che perciò può essere installato in questo ambito per l'utilizzo sostanzialmente, per vedere appunto tutta questa rete da remoto. Per cui in realtà anche qui mi sono accorto forse di una mancanza mia, cioè non è che non vi è un solo DBA 2620P ma anche qui parliamo di più 2620P che vengono collegati al DBS 2000 di riferimento così come avviene su quell'altro e quell'altro, per cui parliamo di più access point. Non è un ospedale enorme però non è neanche piccolino, per cui non mi ricordo esattamente poi quanti DBA 2620P sono stati detallati ma sicuramente non tre, cioè o di più di tre sostanzialmente. Di fatto perciò questa rete poi viene gestita e viene monitorata totalmente da Nucleus Cloud e perciò l'utente può andare a vedere e può andare a fare una serie di verifiche su quello che è lo stato di funzionamento della rete che ovviamente è remota, in questo caso non è più a livello locale. Un altro esempio invece di ogni ospedale a cui torniamo in Italia, qua siamo invece ad esempio un po' diverso. Qua l'efficacia è stata quella di utilizzare dei 3130, dei 3130 tramite delle porte, come diretti 10 gigabitrame, collegarle a degli switch sostanzialmente tutti i 10 gigabitrame, che sono gli XS1210, e qua vediamo i due di XS1210 che sono collegati in LCP, questo perché la scelta è caduta su questi switch perché sono ovviamente più economici rispetto di fatto all'utilizzo di altre macchine che abbiamo visto un po' più elaborate, che abbiamo visto appunto nel slide prima. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere sostanzialmente che si è fatto, o anche qui, un doppio collegamento, ovvio che qua non si può utilizzare LCP perché non andiamo su una macchina in stacking, ma andiamo su una macchina che è in AppLink e di conseguenza si è utilizzato l'RSTP, come vedete una a finire una sopra l'altra e l'RSTP chi chiude. È un anello e di conseguenza essendo un anello va attivato l'RSTP e l'RSTP ovviamente è attivato su tutti gli switch in questo caso, è attivato sia sulla serie di XS1210 che sui di GS3130, per cui nell'ambito di tutta questa rete è stato attivato l'RSTP. L'unico LCP attivo sostanzialmente è quello tra i due di XS1210, questo per dare un quantitativo di banda che fosse più, diciamo, migliorativo rispetto ai 3130. Come vedete qua non è stata richiesta l'utilizzo di Hello Wireless, che probabilmente è stato fatto con un altro vendo, oppure non è stato proprio fatto, però non è una cosa che sostanzialmente poi è stata di nostra competenza, l'unica cosa appunto che è stato chiesto poi di mettere degli switch POE, per cui a valle di questo presumo comunque che ci siano delle periferiche POE, per cui penso e immagino che ci siano o switch, o videocamere, oppure appunto access point, oppure videotelefoni IP, cioè sostanzialmente a vostra IP. Per cui ecco diciamo che è un po' questo discorso. A valle di questo perciò cosa vorrei dire prima di passare alla seconda fase, che è quello appunto veloce sulle soluzioni, è che comunque avete notato come noi ci andiamo spesso a integrare poi all'interno delle nostre reti con reti di altri vendor, per cui non abbiamo problemi da questo punto di vista di integrarci, per cui l'avete visto chiaramente in queste slide di alcune soluzioni che abbiamo appunto installato, e dove vediamo tranquillamente che in un ambito abbiamo messo solo wireless, e nell'altro ambito non c'era lo switch, qua invece mettiamo lì switch e non mettiamo lo wireless, così come poi invece siamo in grado in alcuni casi appunto di avere tutto quanto, per cui di fornire una soluzione a 360 gradi che esiste a wireless e switch. Detto ciò andiamo a questo punto a vedere un po' quali sono le soluzioni che sono state utilizzate. Qui ho messo una soluzione di XS3610, l'ho messa più che altro non perché venisse utilizzata, ma perché è una novità e perciò di fatto volevo farvela vedere, perché è una novità di D-Link e che stiamo sponsorizzando un po' ormai da parecchi mesi, perché è una nuova soluzione, ovviamente di fascia alta, ma che comunque in alcuni casi può essere un valido core di rete, ed è una soluzione tutta a 10 gigabit, come vedete, con 48 porte 10 gigabit SF class, oppure 48 porte 10 gigabit RAM con relative porte appunto da 40 gigabit a 100 gigabit. Perciò è una macchina che è in grado perciò di andare in stacking e di conseguenza ha anche delle performance notevoli dal punto di vista di quelle che sono appunto le varie possibilità che questo tipo di macchina offre. Abbiamo visto appunto che tutta RAM e tutta fibra è con i vari alimentatori, la ridondanza, funzionaria 3, stacking fino a 12 unità, come fa lo stacking? Lo fa grazie al fatto di utilizzare queste 6 porte che abbiamo visto da 40 gigabit a 100 gigabit per fare lo stacking, e lo stacking può essere fatto con 2 porte, con 4 porte oppure con 6 porte, a seconda appunto di quanti cavi, oppure quanti cavi, perciò DAC, oppure quanti transceiver in fibra ottica vengono utilizzati. Qui la questione è abbastanza similare a tutto quello che abbiamo già visto per altre volte in altre slide, oppure in altre presentazioni, oppure in altre soluzioni, parliamo sempre di un sistema dove può essere fatto appunto lo stacking in fibra ottica, oppure con i cavi DAC, ovviamente se viene fatto con i cavi DAC è limitato di distanza, se invece viene fatto con la fibra ottica le distanze possono arrivare fino a 10 km. e inoltre c'è da ricordare che le porte a 100 gigabit sono in grado di funzionare a 40 ma non a 25 a 10, per cui sostanzialmente queste porte nuove da 100 gigabit sono limitate al massimo del downgrade, cioè della banda che si sceglie verso il basso, a 40 gigabit, e questo è importante appunto ricordarlo. Per cui è lo stacking impossibile appunto in queste due modalità. Poi abbiamo invece visto DXS3004, ecco questi li abbiamo visti nella slide prima dove abbiamo fatto il core, e abbiamo visto come l'utilizzo di questa macchina ci ha permesso sostanzialmente di collegare le stack tra di loro e poi di ricevere dai remoti appunto le connessioni nel CP. È una macchina tutta a 10 gigabit, DXS3004 è il suo nome, ha un L3 Lite per cui supporto routing statico e RIP, che sono la maggior parte delle installazioni comunque vengono fatte in routing statico, e come vedete ha tutte porte rame o tutte porte fibre, ovviamente avendo delle porte combo, e si possono metterle in stack tra di loro. È una macchina perciò completa, ovviamente con delle perfodas inferiore alla serie 3610, ma comunque è estremamente valida. Poi abbiamo visto la serie DXS1210, in uno fattispecie abbiamo visto il 16TC, cioè l'utilizzo sostanzialmente di delle macchine di questa serie, che sono anche loro delle macchine L3, e permettono anche routing statico, e permettono anche loro intervono routing, ovviamente con dei costi inferiori, perciò ecco questa scaletta, dobbiamo vederla dall'alto verso il basso, siamo partiti dal 3610, siamo scese al 3400 e siamo scendendo dal 1210, che è la famiglia più entry level dal punto di vista della serie 10 gigabit. Sono però state aumentate di recente due nuove unità, che sono appunto una 24 porte di 10 gigabit RAM, più 4 porte da 10 gigabit a 25 fibra, e oppure una macchina da 24 porte di 10 gigabit fibra, più 4 porte di 10 gigabit RAM. E di fatto queste macchine poi sono delle macchine molto complete, perché hanno ormai tutta una serie di protocolli a bordo, che di fatto le rendono molto utilizzabili in quasi tutti gli ambiti, a parte quei pochi ambiti, che sono poi scelta delle macchine che abbiamo visto a livello superiore. Per cui questa gamma si amplia, della serie di XS1210, e diventa una gamma molto completa, che permette appunto di darvi una serie di soluzioni alle vostre esigenze. Poi passiamo invece alla serie 3630, abbiamo visto come è stato utilizzato uno stack da 3630, questa è una famiglia molto conosciuta da chi sostanzialmente installa D-Link, che conosce, ma da tempo, che poi le stagionano a questa notizia, ma che comunque conosce come unità, è una macchina di stacking che ha diversi formati, cioè solo rame, o poe, o fibra, a seconda esigenza, ad esempio il 28SC è tutto fibra, ma che sempre propone poi come uplink finale queste quattro porti 10 gigabit che possono essere utilizzate con l'oplink, oppure possono essere configurate in stacking. Cioè, di fatto, se si configura la funzionalità stacking, perciò si attiva la funzionalità di stacking, queste porte diventano riservate allo stacking e possono essere riservate o due o quattro. Vi ricordo sempre che nella modalità stacking, quando si attiva la modalità, questo vale per tutti i switch, la modalità è da due porte, anche se si collega una porta, l'altra rimane comunque riservata, se si utilizzano quattro porte, vengono riservate tutte e quattro le porte. Per cui è importante ricordarvi che la modalità di stacking attiva sempre la modalità bidirezionale degli ai cavi, per cui è altamente sconsigliato acquistare un solo cavo. Perché è altamente sconsigliato? Perché in realtà la porta è comunque utilizzata e si perde rindondanza e banda. Per cui l'utilizzo dell'un cavo per il collegamento dello stacking tra due switch e non due cavi, tra due switch, di fatto è sconsigliato e inutile, perché è solo un risparmio di quei soldi che servono a non chiudere l'anello, ma che poi alla fine portano quasi, se usate un po' questo termine, più danno che altro, perché di fatto non ho la rindondanza dell'anello, non ho throughput. Per cui è quel minimo investimento che io chiedo sempre agli utenti di fare in più e di consigliare sempre un cavo di stacking o una consegna di stacking, se fatta con la fibra, ovviamente, per singolo switch, per stare tranquillo. Per cui ho ogni switch un cavo, ogni switch un cavo, proprio per fare questo lavoro qua, ed evitare di avere un cavo che invece gestisce, va a collegare due switch. Ecco, detto questo, che ho voluto, appunto, ribadire questa cosa, che io ritengo molto importante, a questo punto concludiamo dicendo che poi queste macchine hanno anche una parte POE, questa parte POE viene gestita tramite direttamente l'e-switch, oppure può essere espansa tramite un DPS 700, che è un alimentatore rinondato, che in questo caso fa o una rinondanza dei watt presenti, cioè dei 360 watt, oppure le spalle, e li porta fino a 740 watt. Poi abbiamo la serie 3130. Ecco, la serie 3130, l'abbiamo vista prima in una slide, proposta verso il centro di quella serie di XS1110. Abbiamo visto come le due porte di CGCabitRame che questa soluzione presenta, vengono portate verso il centro. Qui la cosa è un po' più variegata, è anche più interessante, se volete, dal mio punto di vista, perché le porte di stacking, che si possono utilizzare, comunque sono 6, si possono utilizzare le due porte di CGCabitRame, oppure le quattro porte di CGCabitRame, il limite è sempre 4, per cui possono essere fatte due rame e due fibra, oppure quattro fibra, e sostanzialmente questa è un po' la modalità, oppure si può fare solo due porte. Nel caso particolare di quella cosa, le due porte di CGCabit, diciamo, sono state, tra virgolette, bruciate, dal fatto di dover andare verso il centro della rete, per cui non possono essere utilizzate per lo stacking. Però rimane la possibilità, tramite le porte di CGCabitSF Pro, di espandere quella futura rete, cioè, perciò, essenzialmente, l'utente potrà acquistare un altro 3130, non utilizzare le porte di CGCabit, però metterne in stack, comunque, grazie al fatto che ha le porte di CGCabitSF Pro, di base, cioè, non perciò tramite le porte rame, ma tramite le porte fibra. Questa modalità, perciò, di utilizzo, permette un'ampia versatilità, ed è stato anche un po' successo di questa macchina, perché questa macchina è stata acquistata, anche con buoni numeri, proprio per il fatto che ha questa grossa versatilità. La versatilità nelle connessioni in uplink, ma anche nello stacking, perché nel caso, appunto, si decide poi di fare lo stacking, tramite le porte di CGCabitSF Pro, lo si fa tramite dei cavi categoria 5E, 6 o 7, cioè, minimo, devono essere 5E, partendo dal 6 a 7, anche se io consiglio almeno la categoria 6, per stare tranquillo, perciò, di fatto, lo stacking si fa fino a 100 metri, tramite le porte che si trovano dentro, tramite dei cavi normalissimi, perciò, niente più DAC, niente più fibra ottica, niente transceiver, niente patch, cioè, sostanzialmente, tramite queste due porte. E perciò, ecco, questa versatilità è, a mio avviso, una cosa molto importante, anche se, come abbiamo visto, della serie 3630, hanno la versione tutta RAM, tutta fibra, come può essere la 30S, che ha un T4S, porta SFP, e poi ci sono anche qua, le soluzioni PoE, che in modo analogo, a quello che abbiamo visto precedentemente, possono essere espanse, tramite questo DPS 700, che li porta a 749, qui, l'accessorio, che avete visto prima, è identico, anche per questo tipo di serie. Poi, abbiamo la serie 1510, la 1510, anche essa, è comparsa negli schemi, utilizzati, è una serie molto venduta, all'interno dei link, proprio perché, ha un ottimo rapporto, qualità prezzo, perché è un layer 3 light, per cui fa routing statico, si può gestire, da porto di console, anche se, caratterizzato come smart switch, ma in realtà, è completamente gestibile, anche via CLE, ha a bordo, una serie di funzionalità, che gli permette, di essere competitivo, con molti switch, che ci sono in commercio, e di fatto, come vediamo, ha anche un'ampia, varietà di apparati, l'unica cosa, che diciamo, cambia rispetto, a livello di stacking, rispetto a quello che avevo prima, è che, pur avendo, delle porte, che in alcuni casi, sono quattro, lo stacking è possibile, solo su due porte, per cui, non vi è la possibilità, di aggregare quattro porte, come abbiamo visto, nella situazione dei precedenti, e di andare verso, perciò, di reperformanza, diverse di stacking, qui, lo stacking, che si fa, tramite due porte, 10 gigabit, a scelta, anche se sono quattro, per cui, vuol dire, che due, comunque, rimarranno, per l'appling, anche qui, l'espansione del POE, avviene allo stesso, identico modo, sempre tramite l'IBS 700, di quello che abbiamo visto, precedentemente, e segnalo anche, che è presente, una macchina, da 20 porte, cioè, che ha 16 porte, più due porte gigabit, SFP, per cui, non tradizionali gigabit, e poi, due porte, 10 gigabit, SFP Plus, cioè, una macchina, molto venduta, molto versatile. E poi, abbiamo visto, la serie DGS 1250, la serie 1250, che usa cambia, rispetto al 1510, cambia solo, che non ha lo stacking, è proposta, solo in quattro unità, 28X, 28XMP, 52, 52XMP, perciò, due poe, due poe, l'espansione, in questo caso, non è provvista, per cui, non è possibile, metterci, l'alimentazione dipendata, e per farlo andare, fino a 700 watt, 740 watt, ma è, 370 watt, e, come vediamo, è una macchina, perciò, diciamo, inferiore, rispetto alla 1510, ma, comunque, è anch'essa completa, e poi, sono in arrivo, due nuove macchine, DMS 1250, che sono, una, 8 porte, 2,5 gigabit, più, più, due porte, 10 gigabit, SFP, plus, in questo caso, scusate, non ho mancato il più, e, l'altra, è 8 porte, SFP, più, due porte, 10 gigabit, SFP, bassi, per cui, sostanzialmente, sono in arrivo, questi nuovi modelli, eccetera, questo perché, di fatto, stiamo introducendo, sempre di più, all'interno della gamma di link, all'utilizzo, del 2,5 gigabit, più, e, andiamo, finiamo, l'ultima parte, rispetto alle soluzioni, di riferimento wireless, abbiamo visto, Nuclas Cloud, ve lo ricordo, velocemente, perché penso che, molti di voi, lo già lo conoscono, ma, comunque, giusto, per chi, magari, non lo dovesse conoscere, faccio, un breve refresh, un altro che, una soluzione, Cloud di link, gestita centralmente, dalla di link, tramite un portale, che va a gestire, sostanzialmente, tramite, eh, delle licenze, che devono essere acquistate, una serie di soluzioni, queste soluzioni, sono le switch, access point, eh, stanno inserendo, e, anche, un firewall, all'interno della soluzione, per cui, un ambito generale, di soluzione, e, perciò, una, un sistema, gestito, appunto, centralmente, l'utente acquista la soluzione, poi, che comprende un anno di licenza, poi può acquistare, poi, anche, contestualmente, oppure successivamente, l'espansione, di altri anni, cioè, sono licenze da un anno, da tre anni, per cui, la possibilità di, aumentare, questo tipo di licenza, è una soluzione, per cui, di questo genere, perciò, di fatto, viene gestito, appunto, come dicevo, tutto all'interno di link, e, di fatto, quando, l'utente, la licenza scade, comunque, l'assess point, oppure lo switch, continua a funzionare, fino a quando, appunto, non viene riattivata la licenza, perciò, il management, in realtà, va perso, nel senso che, lo switch, non può essere più gestito, ma continua, a funzionare, continua, normalmente, ovviamente, tutto è gestito, dal portale di link, e questo permette, appunto, di avere una serie, di funzionalità, giustamente, andiamo a vederle, sono, intanto, la semplicità, di installazione, perché, di fatto, basta, inserire un codice, che è presente sul prodotto, e, già, l'apparato viene visto, in tutte le condizioni, l'amministrazione della rete, wireless, oppure switch, a multilivello, per cui, possono esserci, diverse reti, come gestite, in modo differenziato, a livello, anche dell'accesso, delle risorse, che vengono viste, diversi metodi, di autenticazione, ecco, due cose importanti, monitor, le allarmi, cioè, il fatto che, questo software, il gestore della rete, riceve tutta una serie, di allarmistica, su allarme, sul funzionamento, dello switch, se la switch, sta funzionando, oppure no, cioè, ha una conoscenza, di quello che è, l'aggiornamento della rete, e, altra cosa, che ci devo sottolineare, è che, l'aggiornamento, dei firmware, cioè, rispetto alle altre soluzioni, i firmware, sono già presenti, all'interno del Nucleus Cloud, e, quando si collega, la prima volta, alla periferica, viene già acquisito, al nuovo firmware, poi, nella fase successiva, questi firmware, basta cercarli, e poi, l'utente, può decidere, appunto, di caricarli, oppure no, per cui, di fatto, non sono proposti, in automatico, proprio per evitare, problemi di servizi, durante determinati orari, o cose, perché, a questo punto, se non ci fossero, non ci fossero schede, unico, si potrebbero aggiornare, anche durante l'orario di lavoro, però, si ha la possibilità, di appunto, aggiornarli, schedulandoli, cioè, il firmware, perciò, viene già proposto, e si schedula, l'aggiornamento, per cui, vedete, è fatto tutto, in prospettiva, per permettere, una semplicità d'uso, ci sono dei report, sul traffico, anche, la possibilità, di fare l'autenticazione, social network, la possibilità, di visualizzare, in diversi modi, e poi, concludo, a parte la geolocalizzazione, che permette di vedere, dove sono gli apparati, appunto, ricordandovi, appunto, che è una rete, soggetta, all'utilizzo, di un abbonamento, cioè, perciò, di una licenza, di utilizzo. Detto ciò, questa macchina, l'accesso, si fa al Nuclascom, e potete farlo, quando volete, anche senza le apparati, giusto, per vedere com'è, registrarvi, ovviamente, non avete nessun apparato, in questo caso, da vedere, però, potete vedere le maschine, e poi, qua, vediamo un po', i switch della serie DBS2000, che sono degli switch, l'Aero 2, che sono stati utilizzati, vi ricordo, in ambito, di quella rete, di là, in Africa, gestita dall'Italia, se non ricordo mai, era il 10 MP, quello che si è utilizzato, comunque, vedete, sono le soluzioni P.O.E., che è soluzione non P.O.E., classiche, l'Aero 2, che hanno, di fatto, porte gigabit, più le aplink, fibra gigabit orane, eccetera. sono in arrivo, soluzione anche l'Aer 3, e anche in stacking, cioè, perciò, stiamo allargando, anche, il numero di queste periferiche, che si possono vedere. Poi, qua, sempre in ambito di Nucleus Cloud, accesso, abbiamo una serie di assist point, che, ricordo, sono praticamente quasi tutti elettromedicali, adesso vado a memoria, ma mi ricordo che tutti quelli interni, dovrebbero essere tutti elettromedicali, che vanno dal DBA 12, C10P, che è l'apparato a entry level, fino ad arrivare all'apparato a X, che è il DBA X1230, e qua sono stati suddivisi, più oltre per antenne trasmissive, per 2x2, 3x3, 4x4, oppure outdoor, che sono una serie di BBA 3620P, o della BBA 3621P, come vedete, cambia il modo macro, soprattutto, relativamente al grado di protezione, primo, il P55, il secondo, il P67, e poi potete vedere, anche ad esempio, il DBA X2830, la presenza della porta 2,5 gigabit PUE, perciò l'utilizzo di questa modalità, in ambito ormai della X, perché è un po' scontato fare questo, di questo nuovo tipo di sistema, di connessione, cioè del 2,5 gigabit PUE, per avere maggiore banda, e avere anche l'esposizione PUE. Poi abbiamo visto invece, l'utilizzo di Nuclas Connect, abbiamo visto, nello specifico, l'utilizzo di NH100, di NH100 non è altro che, il software caricato a bordo di un ampliance, il software però, nella versione limitata a 100 utenti, per cui anche l'INH100 è limitato a 100 utenti, ovvio che si possono anche avere più di NH100 installati, e poi c'è la versione invece di un Cascone, software che gestisce i fenomeni gli utenti. Qui nella slide, vedete un po' le caratteristiche fisiche, nel caso di installazione del software a bordo di una macchina, mentre, per quanto riguarda il DNH100, la cosa importante è ricordare che è un hardware, cioè è dipendente dalla macchina, che può essere messo in qualsiasi punto della rete, e ha una porta Ethernet, una pulsante di reset, uno slot microSD, e supporta fino a 100 access point. Ecco, la cosa da ricordarvi, è importante che volevo dirvi, prima di arrivare alla conclusione di questa presentazione, che va da tra poco, è che abbiamo aggiunto di recente all'interno del DNH100, la funzione single sign on, cioè sostanzialmente la possibilità di essere visto da Nucleus Cloud, perciò di fatto, quando installo il DNH100, io posso avere i DNH100 installati localmente, ma poi, i DNH100 vengono catturati anche dall'applicazione Cloud, per cui all'interno del Cloud c'è una nuova pagina, che fa riferimento a Connect. Cos'è perciò cosa vedo? Io posso vedere tutti i miei DNH100, presenti, ok, installato, e cliccare su un bottone e andare sulla configurazione locale. Cioè, vuol dire che la configurazione è ancora locale, però in realtà li vedo da remoto anche. Perché li vedo da remoto, vi ricordo sempre che la porta, sostanzialmente, di connessione, cioè l'indirizzo IP, scusate, non tanto la porta, l'indirizzo IP, sostanzialmente, di questa macchina, anche la porta, non mi stavo confondendo, deve essere aperta sul firewall, oppure sul router. Per esempio, lo stavo guardando proprio ieri, un cliente, che per evitare questo, ha messo l'indirizzo IP del DNH100 nella DMZ secca, no? In questo modo l'ha visto. Cioè, ovvio che sono a disposizione per dirvi in separata sede, se volete, qual è la porta da aprire, in modo da non metterlo anche nella DMZ. Ok? In modo che si possa vedere tranquillamente da remoto. Ecco, perché va aperta una determinata porta sul router, o se no, ovvio che una porta sul router messa come port forwarding, ecco, stavo, giusto, mi stavo un po' incasinando, ma, voglio dirlo tutto, cioè, sostanzialmente, perciò, si mette una porta, si mette in port forwarding dall'IP pubblico all'IP privato dell'NH100 per permettere, appunto, la raggiungibilità da parte di Nucleus Cloud del controller di NH100. L'NH100 vede una serie di unità, queste unità sono da 2610, 2680, 2672 o 2622, cioè, perciò, diverse unità, il 2662 è l'unico apparato di questa serie che è fast roaming a bordo, è anche certificato per il progetto Wi-Fi for you. 2622, invece, è un po' una macchina particolare che, in realtà, è una macchina pensata, proprio per essere messa praticamente nelle strutture, soprattutto alberghiera, o ovunque, in quelle aree dove io metto un access point per singola, per area, per stanza, perché, di fatto, è una macchina applicata da plug, da mettere per la sua parete e ha delle porte, come vedete, anche passanti sotto, per cui l'ideale, senza spendere moltissime prove, soprattutto per l'applicazione delle stanze, dell'hotel, dove ho bisogno di mettere l'assess point e poi di continuare a erogare tutta una serie di servizi e, appunto, questa è l'unità particolare. 2662 è, invece, abbiamo detto, appunto quello col fast roaming e poi 2610 e 2080 che cambiano in funzione di fatto delle performance. Poi, ovviamente, ci sono altre unità che sono in arrivo, per esempio, è uscito anche il DAP 2682, perciò sono, diciamo, non vedete questa cosa come una cosa esaustiva finale, perché in realtà mi sono accorto adesso che anche il 2682 con 4x4 è uscito, per cui ci sono una serie di altre periferiche che sono uscite. L'importante è ricordarvi che tutti i DAP che noi mettiamo, tutti i DAP che iniziano con questa sega sono gestibili dagli NH100 o dal software Nucleas Cloud, Nucleas Cloud, scusate. Poi, il DAP 3666 è una nostra unità da esterno, il P67, proprio per, noi gestiti da Nucleas Cloud, anche Leo gestì Nucleas Cloud e anche lui è un'unità fast roaming e il DAP 3315 è attualmente l'unica unità che abbiamo per fare i ponti radio, perché è un'unità a 2.4 ma che andrà nell'interno direttivo. Perché dico temporaneamente? Perché in realtà stiamo inserendo l'istino delle unità nuove che però di fare proprio il bridge punto a punto ovviamente con delle performance ma anche sottolineano con dei prezzi diversi rispetto a questa unità. Infine, concludo facendo vedere il controllo del DVC2000 nel DVC2000 l'abbiamo visto utilizzato in ambito della ridondanza all'interno dell'ospedale verso i 6620 APS. Esiste anche una versione del DVC1000 che si occupa di avere meno unità gestibile diciamo che parte da due città nativa e può arrivare a 66 con delle licenze nel DVC2000 da 64 a 256 la modalità P-clustering che sarebbe la modalità dell'indondanza è quella di avere più assess point tra di loro cioè più controlli tra di loro che vanno a gestire in modo all'indondato gli assess point che si trovano a valle. il DVC1000 è un'unità che ha anche la possibilità di avere una licenza che attiva delle VPN e anche due porte WAN facendo diventare come un router a tutti gli effetti mentre nell'altro caso le porte WAN non sono presenti per cui alla fine ci sono solo quattro porte LAN che possono essere anche aggregate tramite l'LCP e questa unità si gestisce via web tramite appunto un web server e si possono andare a configurare centralmente una serie di assess point questi assess point che si possono gestire centralmente sono io ho messo gli ultimi ce ne sono alcuni ancora che magari sono anche listino ma comunque mi sono focalizzato soprattutto sull'ultima unità sono l'utilizzo 6620 APS 7620 8620 e salire fino a 8720 che è un'unità da esterno IP66 focalizzo solo su 6620 che è un'unità elettromedicale che è certificata elettromedicale con le smart antenna quello che dicevamo prima e che è una dell'unità sostanzialmente che in quest'ambito andiamo più a utilizzare proprio per queste sue specificità bene io ho concluso perciò se vi sono domande rimango appunto in attesa oppure vi saluto già e vi aspetto ai prossimi webinar che sono stati schedulati per il mese di giugno grazie ancora per l'attenzione rimango in silenzio per un minuto vediamo se arrivo a qualche domanda oppure appunto chiudiamo chiudo già il nostro webinar grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti